Buongiorno a tutti ragazzi sono Mr. Maidan, oggi siamo Steve Fortress in un server dodgeball dove il dodgeball consiste in respingere dei razzi e ammazzare tanti stronzetti che cercano di venire di co-corora? Sei fiero eh? Ti vedi fiero? Azzo Ah! Porca troia Sono morto Fantastico Comunque questa... sono di Steve Fortress Dopo averlo scaricato perché ho formatato il computer, ci ho messo un po' Certo vorrei avere quella fibra là che stanno mettendo... No, dov'era in Kansas? Che stanno mettendo una fibra, l'ho chiamata Google Fibon Non so se è una fibra Però è qualcosa Qualcosa che ti fa andare... la connessione internet è una velocità pazzesca Tipo ho visto sto qua che ho fatto lo speed test E gli andava tipo a 900 MB al secondo Cioè Cristo... sia mega di upload e mega di download Cioè è una cosa pazzesca Ti carichi un video da... 2 giga in... poco di più di 2 secondi Cioè... è una cosa pazzesca Perché se non credo che poi in Italia arrivi però... Si può sempre sperare Comunque adesso... cazzo Più avanti si respingono i razzi più diventa più difficile Ci sono alcuni trocchetti di voi trocchetti di far girare i razzi Di fianco ho scorruto addosso, l'ho respinto con lag E inchia Oh... La prossima parte della cosa con l'Eva lo caricherò più o po' Io non credo perchè... Io non la carica più su... non carica più niente sul suo canale Quindi anche la parte distruttata da lui non credo la caricherà Con questi due rossi sono... duri a morire Lui l'ho seguito sotto, non ho capito cosa ha fatto Sono abbastanza bravi, scodesti Minchia Questo qua è bravo Scusa davanti a me Dove essere... Minchia non serve... Oh... 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 EPICO EPICO EPIC Terribile E' una cosa... è stata una cosa epica, cazzo C'è... saltato Oddio Oddio Ma sai, esco su uno che si fa tipo lo sbrufone Ok, c'è che non è per così una cosa da granchè Cazzo addio Eh, ok Sono morto Questo Questo mio pyro Vabbè, cos'quando nel mio primo set, c'è Io uso... Ma cazzo ha il mio set normale che uso sempre del pyro Questo Dovretti rifarlo di nuovo da capo Ma tu così ci sta bene Ho vinto anche dei... Oh, TF2, TF2 raffolo vinto sti bongo I bongo incandescenti, davvero carini Ecco Simpatico Comunque sto... Vendo cappelli Se vi interessa vendo cappelli per raffinati sto bordo sto dove voi Sto solo tutte le mani che fa che i caricani Ho avendo due o tre raffinati Ho fatto mia offerta e adesso ho raccimolato quattro chiavi Vedendo la maggior parte delle cose che ho fatto Vi consiglio comunque di farvi metallo Perchè... Con questo metallo ho comprato le chiavi Perchè le chiavi stanno salendo un bordello Cioè, da tre raffinati sono saliti a quattro raffinati e uno ho recuperato Cioè, se salgano ancora di più poi ci guadagnate Io sto solo dando un consiglio, forse non volete Ho cambiato pure il nome su... Su... Steam Mi chiamo Mr.MaidanEater con la parentesina Sto assente in questi giorni perchè l'altro ieri era il mio compleanno 8 aprile Ehm... non so chi era... OVJ che ha fatto il compleanno Anche il 9 Ehm... il 9 o l'8 Non lo so comunque Stesso giorno FVJ Credo Se è così L'ha accennato in un suo video però non so se... Si riferiva all'8 o al 9 perchè ha detto... Cioè, non l'ha specificato Comunque, boh Adesso vediamoci torno Questa no fa... Fa cacare Siamo in un buco... Un buco... Siamo in una foglia, insomma Cos'è quello spy di... Che cazzo? Ma la cazzo? Da dove cazzo è venuto? Dio santo Senzano più sensi Ehm... Pushing is not allowed Ehm... Stasciano niente Ah... Ho inteso quello là di rispingere i fire, mi sa Comunque, se qua non serve croatto Se cos'è la cazzo di cane Ehm... niente Facciamo questo ultimo round per terminare il video Questi miei video... Random Adesso Andiamo insamente Cioè, ci sono anche i dati �몸ogo Secondo... Beh... Un altro Ug ossia la cazzo? sono crosti non più come non lo metto per te lo si sicuro no perchè si capisce che scrive sono solo del tipo se 60 3 60 giacca ma guarda ma guarda ma guarda ma cazzo ma che cazzo stupidi 2 2 razzi ah vabbè non so cosa cazzo è leggerci qua ah ho preso anche tux che sarebbe il promo di linux che mi ha volato cioè carino se se puoi servire al pezzo delle buzz e anche se stanno scendendo poi sto il mio medico super sexy ecco medico super sexy anche un grosso super sexy ho scoperto che comunque inoltre la il siberiano sofisticato che sarebbe siberian sofisticate in inglese e dietro lascio dietro la testa del grosso il segno di hitman se vedete qua so col mouse si vede sulla testa c'è c'è proprio il codice a barre che ha hitman in testa io lo nascondo perchè non mi piace però è simpatico non so se molta gente lo spera perchè io mi formo lo stesso poi chi non lo sa c'è una battaglia epica e con questa vittoria io vi saluto e ci vediamo in prossimo video su il fortress o sulla ftb allora ci vediamo che ti parapatonza ci vediamo in prossimo video su Grazie a tutti.